Buongiorno a tutti e benvenuti all'analisi ciclica evoluta su DAX e Fuzimib. Oggi è il 5 febbraio e cercherò di rendere un pochino più semplici determinate considerazioni. Allora, cosa sta succedendo? Siamo arrivati potenzialmente all'ultimo ciclo inverso, quelli che partono da dei massimi, sviluppano dei minimi e poi ritornano a fare dei massimi, del ciclo settimanale inverso che, come vedete, era iniziato da questo massimo qua. E a che punto siamo arrivati? Da questo massimo, contando la candela rossa, siamo arrivati all'estensione massima teorica di salita. Peraltro non abbiamo proprio avuto una chiusura di inverso che possa far pensare che si sia chiuso qua. Quindi l'ipotesi principale è che si sia sull'ultima giornata, sull'ultima estensione possibile, di rialzo. E per quanto si potrebbe ancora al massimo salire di oggi? Si potrebbe arrivare, come al solito, a 44 barre, ovvero fino a qua, fino alle 11.45. Per cui, fino alle 11.45 si possono aggiornare i massimi ed eventualmente si può arrivare al primo dei livelli di algoritmo che darò appunto al gruppo che coordino su Facebook. Successivamente, però, andremo a vedere dove si sarà fatto un minimo importante rispetto agli altri. In questo momento potrebbe essere questo, lo swing inverso a 22.896, ma dobbiamo vedere che cosa succede nel resto della giornata e almeno fino alle 44 barre e valuteremo in violazione di quello eventualmente uno short. Perché andare a fare uno short? Perché dovrebbe partire almeno un nuovo T inverso, ovvero un nuovo ciclo settimanale inverso, piuttosto che un T più uno inverso e portare una discesa per i giorni minimi per farla iniziare appunto questo sottociclo. Vi faccio peraltro notare che con questa salita siamo andati già a vincolare a ribasso, ovvero rialzo di indice, anche questo T più due che è arrivato a 20 giorni su minimo 24 e che potrebbe fare un tre tempi. Per quanto riguarda il DAX, considerazioni molto semplici, anche in questo caso, qui ci potrebbe essere una partenza di terzo T inverso, ma per chiudere un T più uno serve un sottociclo di tre gradi inferiori, ovvero per chiudere un T più uno inverso servirebbe un T, T meno uno, T meno due, un due giorni di rialzo di indice. Qui non li abbiamo, quindi questo è molto probabile che sia il settimo T meno tre inverso, questo è la massima estensione di T meno tre inverso a cui si può arrivare l'undicesimo T meno tre e anche in questo caso siamo a 11 candele, ok? È molto probabile che terminata la massima durata, e quindi anche in questo caso fino al massimo le 11.45 di oggi, si possa provare ancora da giorni ai massimi per arrivare in questo caso a questo livello di algoritmo a 14.114, ma che se non ci arriveremo e inizieremo da giorni ai minimi, bisognerà andare a cercare uno swing inverso per valutare appunto di fare lo short dopo le 10.01. Peraltro ci sono altre regole semplici dell'analisi ciclica voluta. Nel pomeriggio di venerdì, e oggi è venerdì, suggerisco, visto comunque la tendenza e altre cose, di evitare di aprire operazioni e iniziare operazioni che potrebbero andare a finire in overnight. Questo per il semplice fatto che appunto c'è il rischio di rimanere dentro nel fine settimana, e nel fine settimana potrebbe succedere tutto sia a livello di politica e altro, e sappiamo che solo nel breve gli accadimenti politici piuttosto che economici o altro possono effettivamente creare eventualmente finte ed altro per poi riprendere il loro corso. In questo caso quindi abbiamo fatto bene come al solito a evitare di prendere posizioni contro trend, e questo è tutto. Vi ringrazio per il vostro tempo e vi auguro una splendida giornata prima di uno splendido weekend. Arrivederci!